Il titolo di questa lezione è il problema della realtà nella fenomenologia. Il problema della realtà è un problema che ha attraversato l'intera storia del pensiero filosofico e l'impostazione fenomenologica si colloca dentro questa storia del pensiero filosofico e mette in luce una caratteristica assai peculiare, un'impostazione peculiare, che si differenzia da altre. Quali altre? Beh, innanzitutto la discussione sulla questione del realismo o della realtà oscilla tendenzialmente tra due posizioni che si alternano spesso, che si contrappongono e che potremmo per semplicità circoscrivere come una contrapposizione tra il realismo, che dice le nostre teorie colgono la vera realtà, come la realtà è fatta, e dall'altro invece una posizione che potremmo chiamare di tipo idealistico o antirealistico anche, che dice le nostre teorie sono soltanto costruzioni soggettive, modi in cui noi cerchiamo di interpretare il reale, ma che non hanno, non possono avanzare nessuna pretesa di cogliere come le cose veramente stanno. C'è stato un periodo intorno agli anni Ottanta in cui soprattutto era molto apprezzata l'impostazione ermeneutica, che tendenzialmente dissolveva il reale in un conflitto di interpretazioni, non possiamo che avere interpretazioni del reale e quindi il reale è inaccessibile, è qualcosa che non possiamo mai cogliere. Negli ultimi anni si è sviluppata invece forse come reazione, anche giustificata a questo, per così dire, a questa dissoluzione del reale nell'interpretazione, un'impostazione che appunto si caratterizza con i caratteri del realismo e cioè abbiamo un accesso effettivo al reale sia dal punto di vista dell'esperienza comune sia dal punto di vista delle teorie scientifiche. Le teorie scientifiche non sono modelli, non sono interpretazioni, ci dicono come la realtà è veramente fatta. L'impostazione fenomenologica prende le distanze da entrambe queste impostazioni perché da un lato cerca di enfatizzare che quelle che noi abbiamo non sono soltanto interpretazioni di tipo soggettivo ma colgono elementi e relazioni effettive. Ma queste relazioni non sono dietro la nostra esperienza ma formalizzano e colgono delle strutture, delle relazioni che sono interne all'esperienza che noi facciamo nella vita di ogni giorno. Quindi da questo punto di vista rivendica un carattere oggettivistico alle nostre teorie, cioè non tutte le teorie sono equivalenti. C'è un terreno che colgono, ci sono degli aspetti reali ma questi aspetti reali sono le strutture della nostra esperienza. Quindi prende le distanze dalla dissoluzione soggettivistica o comunque della dissoluzione del reale nel conflitto delle interpretazioni. Ma dall'altro prende anche le distanze dal realismo o anche da quello che Husserl chiama, in intera tradizione fenomenologica, chiama il realismo ingenuo. Il realismo ingenuo è l'idea che noi cogliamo il reale così come esso è in se stesso, quasi come se noi potessimo accedervi senza passare per la nostra esperienza, per i nostri atti soggettivi, per il modo in cui noi comunque cerchiamo di organizzare la nostra esperienza. In realtà quello che noi dobbiamo distinguere è da una parte la natura o la realtà o l'essere o l'oggetto, che sono ciò che miriamo a conoscere, e dall'altro invece le scienze della natura o la realtà, e quindi il sapere e il conoscere, che sono dei tentativi di approssimarsi, di comprendere, di organizzare, e di dar ragione di ciò che accade nella nostra esperienza. Uno dei grossi problemi del realismo molto spesso è che confonde e mette insieme la natura e le scienze della natura, mentre le scienze della natura effettivamente sono modi di organizzare, sono modi razionali, quindi non soggettivi, non sono arbitrari, però sono modi in cui noi organizziamo il reale e il reale, che comunque rimane qualcosa che sta al di là del nostro sapere. Che cos'è il realismo ingenuo? Il realismo ingenuo potremmo definirlo la tradizione fenomenologica, Husserl per esempio lo definisce così, e lì via, secondo cui la realtà è quella che sta oltre la nostra esperienza. La nostra esperienza fenomenica, quella in cui viviamo nella vita quotidiana di tutti i giorni, sarebbe semplicemente parvenza. Noi vediamo sedie, vediamo persone, ma in realtà questa è semplicemente una parvenza, perché nella vera realtà non esistono né sedie né persone, esiste semplicemente un insieme di elettroni, di atomi, di fermioni, quindi tutte cose che non si vedono. Quindi il nostro mondo, il mondo in cui trascorriamo la nostra vita quotidiana, sarebbe una illusione. Non è reale. E quindi il realismo, se inteso in questa maniera, giunge a delle conclusioni abbastanza paradossali, che sono quelle di dissolvere la nostra esperienza quotidiana. E rispetto a questo, il realismo è ingenuo ed è anche dogmatico, perché non si chiede una cosa semplice. Come fai a sapere che la nostra esperienza quotidiana è illusoria e che in realtà le cose stanno in maniera diversa? Una teoria scientifica, una teoria qualsiasi, scientifica o non scientifica, nella missione in cui pretende di essere vera, deve avanzare delle pretese di legittimità. Ma per dire che è vera, per dire che è legittima, deve far ricorsa a qualcosa. A che cosa? Alla nostra esperienza. Ora, se la nostra esperienza è illusoria, allora in questa maniera priviamo lo stesso realismo delle sue basi minime, nel senso che diviene una pretesa eccessiva che non può avanzare nessuna pretesa di legittimità. Quindi il problema che la fenomenologia pone è questo. Se tu dici che la tua teoria coglie il reale che sta dietro l'esperienza, sulla base di che cosa puoi legittimamente dire che le cose stanno così. Che cos'è che supporta questa tua credenza? E questo ci riconduce a che cosa? Alla necessità di tornare all'esperienza. I concetti con cui noi costruiamo le nostre teorie non cadono dal cielo. Concetti di massa, concetti di velocità, concetto di spazio, concetto di tempo, sono concetti che hanno una storia, hanno avuto un'evoluzione, hanno avuto dei processi di formazione. Come sono sorti questi concetti attraverso cui poi noi diciamo che cosa è il reale e che cosa non è reale? Quindi il problema della fenomenologia è un problema che è relativo alla genesi dei concetti che noi usiamo per definire il reale e che cosa è e come veramente stanno le cose. E questo è il primo punto che differenzia quindi il realismo che io continuerei a chiamare ingenuo e la fenomenologia. Il fatto che il realismo ingenuo non specifica quali sono le basi a partire da cui può avanzare una legittima pretesa di realtà e di verità. Mentre la fenomenologia dice c'è un terreno a partire da cui può avanzare una pretesa di legittimità e di verità, questo terreno è la nostra esperienza. Se è la nostra esperienza allora questa esperienza è un campo di fondazione che non può essere disolto come illusoria. Questo è il primo punto. Il secondo punto è una teoria di tipo, quella che emerge nella tradizione moderna che si sviluppa a partire da Descartes, poi da Locke, Berkeley, Hume e poi l'intera tradizione moderna. Qual è l'idea qui? L'idea che emerge con la modernità è questa. Noi non vediamo le cose. Noi abbiamo semplicemente delle immagini, quindi la potremmo chiamare, la chiamo una teoria delle immagini. Noi abbiamo delle immagini che sono dentro la nostra mente, che sono dentro la nostra psiche e ciò che chiamiamo realtà lo definiamo soltanto a partire da queste immagini che sono interne. Di qui il problema che già emergeva con Cartesio, ma se io ho soltanto delle immagini, delle copie, come faccio a sapere che le cose esterne alla mente siano simili e non siano invece del tutto differenti o addirittura che non esistano? E sappiamo che in Cartesio non c'è una soluzione effettiva a questo problema. Il problema viene risolto attraverso il ricorso alla veracità di Dio che non ci inganne, quindi questo ci garantisce che c'è una corrispondenza. Ma il problema si acuisce con l'impostazione del Vescovo Berkeley perché il Vescovo Berkeley dice, beh, se noi abbiamo soltanto delle immagini interne, allora non possiamo sapere come stanno le cose esternamente. Perché per sapere se queste copie raffigurano effettivamente le cose esterne dovremmo poterle mettere a confronto. Ma per metterle a confronto le cose esterne dovrebbero essere immagini dentro la mente e quindi non riusciamo mai a uscire da quello che possiamo chiamare l'immanenza coscienziale. Quindi viviamo in un mondo di immagini. La soluzione del Vescovo Berkeley, poi seguito da Hume, sarà quello di dissolvere la nozione di realtà. La realtà, se noi abbiamo soltanto a che fare con immagini interne, allora il mondo esterno è qualcosa che non possiamo conoscere. Questa è la seconda grande sfida e su questo ci tornerò in seguito se avremo tempo. La risposta della fenomenologia consiste nel marcare una differenza e cioè nel sostenere che in questa maniera si confonde l'adombramento con ciò che si adombra. Noi non abbiamo immagini delle cose, io non ho un'immagine della sedia, ho semplicemente la sedia vista da un certo lato. Cioè le cose reali si danno sempre, per un motivo essenziale, si danno sempre in maniera prospettica. Quindi conoscere la sedia significa vederne prima un lato, poi un secondo lato, cogliere come si mettono insieme, ma quello che io vedo non sono immagini interne, sono la sedia stessa vista da una certa prospettiva. E questo è l'errore che, da punto di vista fenomenologico, è interno a tutta la tradizione moderna, che manca di un concetto fondamentale per accedere al tema della realtà, cioè il concetto di intenzionalità. Una cosa sono gli adombramenti, che sono ciò che io vedo, che non sono dentro di me, ma semplicemente ciò che mi si offre data una mia posizione spaziale. Un'altra cosa è la sedia stessa che ovviamente eccede. Ma una terza prospettiva è quella che potremmo chiamare il naturalismo sfrenato. Il naturalismo sfrenato in che cos'è, come potremmo definire il naturalismo sfrenato? Il naturalismo sfrenato potremmo definirlo così. Annulliamo l'idea stessa di esperienza e di coscienza. La coscienza non esiste, esistono soltanto un cervello che è fatto di neuroni, di strutture chimico-fisiche, e la conoscenza è un fatto esso stesso di tipo naturale. Quindi abbandoniamo l'idea di rappresentazione, abbandoniamo l'idea di esperienze che non serve a nulla, ma ancora una volta la domanda è come fai a sapere che c'è qualcosa come il cervello? Come fai a sapere che il cervello è fatto di neuroni? Come fai a sapere che cosa è una sinapsi? E la risposta è semplice, lo sappiamo solo dalla nostra esperienza. Un'esperienza che cresce e che si sviluppa storicamente. Platone di neuroni non sapeva nulla. Lo sappiamo noi. Perché lo sappiamo noi? Perché abbiamo delle capacità anche di tipo tecnologico che ampliano la nostra esperienza. Cioè non dobbiamo pensare che l'esperienza sia qualcosa di definito una volta per sempre. La nostra esperienza si modifica e si amplia continuamente. si amplia con l'EFMRI. Come anche per esempio noi scopriamo che esiste qualcosa come delle radiazioni di sfondo perché a un certo punto con la scoperta della radio si vede che ci sono dei disturbi. Cioè che le onde radio vengono disturbate e quindi ci deve essere qualcosa. Questo cosa fa? Fa emergere, allarga la nostra esperienza perché fa emergere, fa cogliere qualcosa che senza la radio non poteva essere colto. Questo è quello che si chiama tecnoscienza che per esempio ha sviluppato a partire da Husserl e Heidegger un pensatore come Don Heidegger in maniera abbastanza recente. Ma quello che qui mi interessa è che il naturalismo sfrenato non coglie una cosa che anche se noi diciamo che la conoscenza è un fatto interamente naturale, biologico eccetera, questa è una teoria che può essere legittima ma che la sua legittimità la può rivendicare solo rifacendosi alle evidenze di tipo fenomenico. Devo vedere in un FMRI, in un computer, delle immagini di quello che si accende in un cervello quando quel cervello percepisce, pensa a emozioni eccetera. Quindi l'idea è che l'esperienza è intrascendibile. In questo senso la fenomenologia produce una trasformazione della nozione di trascendentale. Trascendentale non è ciò che dà forma al mondo, trascendentale è l'esperienza e significa, potremmo definirla così, che ogni pretesa di legittimità e di verità e di realtà riconduce alle strutture dell'esperienza. Per dire che è una teoria legittima, che è un'affermazione legittima, io devo ricondurla all'esperienza. È vero che nell'esperienza ci inganniamo. Nella nebbia vediamo qualcosa, vediamo qualcosa e diciamo c'è un uomo nella nebbia. Poi avvicinandoci questa posizione d'essere di realtà viene modificata. Diciamo non è un uomo, forse è un manichino. È un manichino. Perché passiamo da una posizione all'altra? Perché ci sono dei decorsi di esperienza, c'è un arricchirsi dell'esperienza che smaschera come illusione quello che prima era stato posto come effettivamente reale. Vediamo per esempio che non si muove, cominciamo a toccarlo. Toccarlo significa che introduciamo un altro aspetto dell'esperienza. Cioè oltre all'esperienza di tipo visivo ci mettiamo all'esperienza di tipo tattile. Vediamo che non risponde, lo vediamo con una certa immobilità. Tutto questo sono ragioni dell'esperienza che ci dicono che qualcosa non era reale. Quindi quello che sto cercando di sostenere è che a dire che cosa è reale, che cosa non è reale, non può che essere la nostra esperienza. Quindi il problema del realismo può essere ripreso solo ancorandolo alla sua sorgente a partire dall'esperienza. E questo riguarda anche l'idea di cose in sé. Qualcuno potrebbe dire sì, ma le cose, la realtà esisterebbe anche se non ci fosse nessuno a percepirla. La realtà esisteva prima che ci fossero uomini, prima che ci fossero animali e probabilmente è così. Ma il punto di vista che è la domanda filosofica è come facciamo a saperlo? E se lo sappiamo è soltanto perché quello che chiamiamo mondo in sé non è un mondo dietro il mondo. Ciò che chiamiamo mondo in sé è semplicemente la totalità dell'esperienza possibile. Che cosa è il mondo? È un ideale di approssimazione che sarebbe il mondo conosciuto secondo tutti i suoi aspetti fenomenici. Questo sarebbe che cos'è il mondo in sé e anche il fatto che noi diciamo c'era una realtà che esisteva prima che ci fossero uomini, lo sappiamo solo perché abbiamo nella nostra esperienza delle ragioni che ci suggeriscono che ci sono stati, per esempio, animali prima che ci fossero gli uomini. Semplicemente, banalmente, perché ritroviamo dei fossili, perché questi fossili li datiamo, li datiamo con una data che presumibilmente dovrebbe essere precedente a quella del sorgere dell'uomo. Ma questo significa che diciamo che c'era una realtà che esisteva prima dell'uomo perché la nostra esperienza ce lo suggerisce. Quindi l'idea che potremmo avanzare come principio di natura fenomenologica che caratterizza il realismo fenomenologico, quindi è molto differente dal realismo che ho chiamato prima ingenuo, è questo. Ciò che esiste, in linea di principio, deve poter essere esperito. Se qualcuno parla di una realtà che esiste certamente, ma di cui nessuno sa nulla, di cui nessuno ha mai saputo nulla, di cui nessuno potrà mai sapere nulla, questa non è realtà. Questa è un puro nulla, una pura speculazione priva di qualsiasi base. Se qualcosa è reale, tutte le volte che avanziamo una pretesa di realtà, diciamo che in linea di principio si potrebbe fare esperienza di questa idea. Ovviamente in tutto questo è presupposta un'idea e l'idea che è presupposta è questa, che l'esperienza abbia una propria autonomia, che si strutturi, cioè che non sia costruita storicamente, che non sia costruita dalla soggettività. E quindi, secondo me, da un punto di vista fenomenologico, per sviluppare un realismo come quello che ho cercato molto rapidamente di abbozzare, per sviluppare un realismo di questo tipo, quindi è un realismo dell'esperienza, ovviamente, bisogna prendere in considerazione e fare i conti e differenziarsi da alcune prospettive secondo cui l'autonomia è priva di esperienza, di autonomia. Cioè l'esperienza è costruita. Vorrei presentare queste possibilità con alcuni esempi. La prima è questo. Si potrebbe dire la nostra esperienza è fatta semplicemente di stimoli sensoriali privi di organizzazione. Cioè avremmo una sorta di caos sensoriale. Questo caos sensoriale acquista una forma e quindi la nostra esperienza si può formare solo perché li organizziamo a partire dai nostri schemi concettuali, dal nostro linguaggio, per cui per esempio il linguaggio sarebbe ciò che dà forma all'esperienza. Prima del nostro linguaggio non apparirebbe niente. Questa è una prospettiva che in maniera per la verità molto differente, con differenze anche notevole da un punto di vista concettuale, sta alla base dell'impostazione di Quine, parola e oggetto, per esempio, in cui è l'interanimazione degli enunciati a dare forma a questa esperienza caotica. Possiamo trovarla anche in Michel Foucault. Quine e Foucault sono agli antipodi su quasi tutti i punti di vista, però da un certo punto di vista fanno parte di questa grande famiglia delle teorie costruttiviste. Altre prospettive sono quelle che invece sono sviluppate a partire dall'impostazione della linguistica di Desaussures, in particolare in Banvenist, in Barth e in Derrida. Qual è l'idea? Beh, in Banvenist o Banvenist, l'idea è che la maniera in cui noi pensiamo è determinata dal linguaggio che parliamo. Quindi non esiste una realtà dell'ordine dei significati, perché ogni linguaggio ridetermina, riconfigura l'ordine dei significati. Questa prospettiva viene acutizzata in Roland Barthes, per esempio in elementi di semiologia, in cui Barthes dice non soltanto il nostro pensiero è strutturato dal linguaggio che parliamo, ma anche la maniera in cui percepiamo è strutturato. Cioè il linguaggio, l'ordine dei significanti, opera un taglio del reale, cioè organizza come noi vediamo le cose, al punto che se un linguaggio non ha una parola per il giallo, dovremmo supporre che il giallo non venga visto. A partire da questo si è sviluppata un costruttivismo radicale, per esempio nell'opera di Derrida, almeno per come la interpretano alcuni interpreti. Derrida può essere interpretato in tutt'altro senso e soprattutto quando Derrida dice non c'è fuori testo. Non c'è fuori testo per alcuni significherebbe la maniera in cui noi guardiamo il mondo deriva dai testi che leggiamo, che ci sono stati tramandati. Cioè non si esce dalle teorie in cui siamo imprigionati. Se non si esce dagli ordini discorsivi, dalle teorie, dal linguaggio che ci imprigionano, significa che la realtà per noi non esiste. Questo è un aspetto del costruttivismo, ma questo aspetto del costruttivismo, qui vado molto rapido, è caratteristico dell'intero kantismo e del neocantismo. Qual è l'impostazione di Kant? Kant è il primo che contrappone appunto l'idea di un'esperienza fatta di sensazioni caotiche, dice prima dell'ordine che viene conferito al mondo dalle strutture soggettive, quindi l'intuizione di spazio e di tempo e poi dalle categorie c'è solo una sorta di rapsodia di sensazione, un brulicare caotico, cioè non apparirebbe nulla, non si manifesterebbero sedie, orologi, niente. Se si manifestano sedie, se si manifesta un mondo di esperienza ordinato è perché noi gli diamo una forma, lo strutturiamo a partire da che cosa? A partire dalle forme che ha il soggetto, cioè li organizziamo in maniera spaziale, in maniera temporale, ma spazio e tempo non sono cose reali, sono la maniera, le forme soggettive attraverso cui noi strutturiamo il mondo reale. Questo poi viene sviluppato nel neocantismo, in cui, per esempio in Paul Nathorp, in Cohen, in Heinrich Rickert, in cui l'idea fondamentale è questo, non c'è datità, cioè l'esperienza non è qualcosa che si dà da se stessa, perché viene messa in forma, strutturata, in tedesco il termine formung, che è proprio messa in forma, strutturazione, come qualcosa che dall'alto, come una formina che dà la forma alla plastilina su cui si cala, mentre la plastilina sarebbe amorfa. Questa è l'idea, e se le cose stanno così, allora l'esperienza non potrebbe svolgere quel ruolo di filo conduttore per determinare che cosa è il reale, che cosa non è il reale. E proprio per questo l'impostazione fenomenologica si organizza attorno a un'idea, l'autonomia dell'esperienza. L'esperienza del mondo si organizza prima delle forme soggettive, l'esperienza del mondo si organizza prima del linguaggio, l'esperienza del mondo, la nostra esperienza sensibile, percettiva, a delle forme di auto-organizzazione interne. Cioè la forma dell'esperienza non la si trae né dal linguaggio né dagli schemi concettuali, perché le cose si manifestano secondo un loro ordine intrinseco. Questa è l'idea di sintesi passive. Quello che Ussolo chiama sintesi passive significa delle sintesi che si organizzano, che si strutturano prima dell'intervento del soggetto, prima della spontaneità dei concetti kantiani e si strutturano in una maniera tale che noi abbiamo come base di ogni esperienza quello che Ussolo chiama il mondo antepredicativo. Antepredicativo significa un mondo che si struttura prima del giudizio, mentre in Kant le cose acquistano forma e noi siamo i soggetti di tipo razionale perché siamo i soggetti che esprimono dei giudizi e nei giudizi avviene questa messa in forma. Invece l'idea di Ussolo è qualcosa si struttura prima, ha già una forma, quindi antepredicativa, prima della predicazione, prima del giudizio, e i nostri giudizi teoretici sono esplicitazione delle forme che si sono già strutturate all'interno di questi processi. Questa è l'impostazione generale e l'ultimo punto che vorrei toccare molto brevemente è il passaggio alla questione della scienza, come dobbiamo intendere le teorie scientifiche. Ci sono diversi modi di intenderlo, qui in maniera molto rapida potremmo dire concetti come massa, i fermioni, lo spin, sono semplicemente strumenti, quindi una concezione strumentalista della scienza, o invece sono enti reali. Questo è il punto, è il punto tra realismo e strumentalismo. Qual è la posizione? Colgono il reale? Sono solo interpretazioni? Rispetto a questo io penso che noi dovremmo parlare di un realismo di tipo razionale. Che cos'è il realismo razionale? Il realismo razionale è l'idea secondo cui i concetti scientifici sorgono dall'esperienza, ma la oltrepassano e a un certo punto cominciano a funzionare indipendentemente dall'esperienza. Quando cominciano a funzionare indipendentemente dall'esperienza ci permettono di costruire modelli. I modelli hanno la funzione di irrigimentare quelli che sono delle relazioni empiriche percepite. Facciamo un esempio banale. È nella nostra esperienza percettiva che noi esperiamo che il calore arroventa il metallo. Questo è un dato di esperienza. Non c'è bisogno di nessuna teoria scientifica. È qualcosa che si dà, tanto per dare un significato alla parola datità. Cioè apri gli occhi e lo vedi, prima di ogni pensare. Ma un'altra cosa è invece riuscire a prevedere qual è il momento in cui il metallo fonde, cosa succede a una certa temperatura. E per fare questo occorre una capacità di previsione che l'esperienza fenomenica non ci permette di avere. E qui emerge appunto l'importanza della teoria, che quindi coglie delle relazioni reali. Perché il rapporto tra il calore e l'arroventarsi del metallo è reale. E quando qualcuno dice il metallo fonde a questa temperatura, quella non è un'interpretazione. Sta accogliendo un aspetto effettivo. Ma non sta accogliendo qualcosa che sta dietro l'esperienza. Sta accogliendo e sta formalizzando una struttura che è interna all'esperienza stessa. Come vengono questi passaggi? Beh, per semplificare molto potremmo descriverli così. Il primo passo è l'esperienza percettiva ordinaria. Esperienza percettiva ordinaria però non è un caos, perché ha delle regolarità. Delle regolarità induttive, delle regolarità di tipo fenomenico. Io so che avvicinandomi a un oggetto, l'oggetto si ingrandirà. E se questo non avvenisse, se io avvicinandomi a un oggetto, l'oggetto si rimpicciolisce, la nostra credenza nel mondo verrebbe meno. Cioè noi crediamo che il mondo sia reale, perché c'è questo nucleo di regolarità. A partire da queste regolarità percepite emerge una prassi. Per esempio la prassi della misurazione, Usserl insiste molto nell'origine della geometria, sulla prassi della misurazione o anche sul costruire oggetti. Cosa avviene nella prassi? Che cominciano a emergere dei concetti che sono concetti quasi ideali. Il concetto di linea. Per esempio, tra due campi, ciò che li divide è una linea, ma una linea non è più una superficie, è qualcosa di inesteso. Questo è già un concetto limite da cui sorgono i concetti elementari che stanno alla base di ogni geometria. Basta aprire un libro di Euclide, ma anche un libro di geometria delle superiori, si trovano le nozioni di linee, limite, punto, superficie. Sono quei concetti fondamentali che poi in maniera costruttiva danno origine all'intera geometria. Quindi la geometria non esiste in un terzo regno. Questo è il punto di differenza. È qualcosa che si è sviluppata dall'esperienza. E a partire da questi concetti si costruisce un'intera struttura. La geometria viene trasmessa, ma quando viene trasmessa si tradizionalizza. E quando si tradizionalizza si perde il senso dell'origine, cioè come si è essorta. E questo accade già con Galileo. Accade già con il platonismo in realtà, ma questo sarebbe più complicato. Accade con Galileo perché Galileo si trova davanti una geometria e a quel punto fa un'operazione molto semplice. Dice la geometria è la razionalità stessa. Il mondo deve essere razionale, quindi il mondo, ciò che sta dietro l'esperienza, è di natura geometrica. E questo diventa l'errore della modernità, perché una cosa è il Galileo scienziato, un'altra cosa è come Galileo interpreta le operazioni che compie. Per questo Ussolo dice che Galileo è un genio che scopre e occulta. scopre le relazioni tra fenomeni, ma occulta il fatto che gli strumenti che sta utilizzando non sono come la realtà è, ma sono strumenti che si sono sviluppati all'interno della storia. Cioè Galileo deve supporre o presupporre una corrispondenza tra la geometria e la realtà. E quindi può dire che l'esperienza fenomenica è falsa, è illusoria. Io attraverso la geometria accedo alla realtà in sé che sta dietro. In realtà non fa quello. Usa la geometria semplicemente per irrigimentare, per comprendere meglio e per calcolare meglio quelli che sono i rapporti fenomenici. Cioè applica i modelli della geometria euclidea che gli sono stati tramandati all'esperienza ordinaria. Questo diventa evidente nella nuova fisica. Perché diventa evidente la nuova fisica. Perché dopo Galileo abbiamo dei enormi processi che portano al passaggio dall'idealizzazione alle formalizzazioni. Qui spero di non essere complicato, ma uno studente delle superiori lo capisce subito. Si passa dall'idealizzazione, ci sono punto, superficie, quindi ciò che sta alla base della geometria. Ma a un certo punto avviene una formalizzazione. Per esempio, io la linea posso trasformarla in una serie di numeri, in un'equazione lineare. Qui perde del tutto l'aspetto intuitivo. E quindi è quello che dicevo prima, si parte dall'esperienza, ma poi i pensieri si staccano dall'esperienza. E una volta che io ho formalizzato, che ho trasformato una linea, un'equazione lineare, posso costruire una molteplicità infinite di geometrie diverse. Una geometria euclidea, una geometria rimaniana, alla Lobaceschi, alla Boilai. E a quel punto emerge il problema. Qual è la geometria che ci conviene usare per costruire una fisica? E sappiamo bene che Einstein, per esempio, per costruire la sua fisica, abbandona quella geometria che Galileo aveva considerato come la geometria che doveva permettergli di cogliere la vera struttura del reale. Quindi non c'è soltanto, c'è tra Galileo ed Einstein, non c'è semplicemente un processo cumulativo del sapere. Perché la nozione di spazio reale che emergerebbe in Galileo ed Einstein sono inconciliabili. Non è lo stesso spazio. Il punto è questo. Per usso da nessuno di due è vero. è semplicemente che si usa quello che è più conveniente usare. Cioè quello che cattura, imprigiona un maggior numero di fenomeni e che amplia maggiormente la nostra capacità di previsione. Questo non vuol dire che la scienza sia un mero strumento e che sia privo di fondamenta, di base, che non sia una teoria di tipo realistico. Vuol dire soltanto che non scoglie la realtà che sta dietro i fenomeni, ma la realtà che caratterizza la relazione tra fenomeni.